Qui ci sono 500 g di tapioca, una tazza di latte, mezza tazza di olio, tre uova, un po' di sale, 250 g di formaggio, cioè un po' di formaggio di parmigiano grattugiato e una scamorza, un po' di scamorza. Si versa il latte e l'olio nel pentolino. Si aggiunge un cucchiaio raso di sale. E poi si mette sul fuoco con lo scopo di sciogliere il sale, quindi bisogna mescolare finché non è sciolto il sale. In realtà non è che deve proprio arrivare a bollire. Quando vedi che il latte comincia un pochettino a salire, fa delle bollicine che vengono a galla, vuol dire che sta per bollire e probabilmente se hai mescolato il sale è già sciolto. Insomma l'importante è che non si sentano i granelli di sale. Se vuoi mettere dell'aglio in polvere o delle erbe eccetera, mettile insieme al latte e all'olio quando li metti a scaldare. Ecco, vedi qui ha cominciato a fare queste bollicine bianche di latte che salgono in superficie. Vuol dire che sta per bollire perché prima bolle il latte dell'olio. Non devi farlo evaporare perché sennò poi è troppo poco liquido. Poi si versa qui nella farina e si mescola. Vedi che è bollente. Si mescola un po', insomma si deve, ecco, per far amalgamare un po'. Poi più avanti magari lo mescoli, quando è un po' più freddo lo mescoli un altro pochino in modo che, ma poi comunque poi alla fine siccome si mischia con, si impasta con le mani quindi non è che ci devi perdere tanto tempo. L'importante è così, mischiarlo un pochettino. Poi si battono le uova, le tre uova e poi ci aggiungi il parmigiano. Insomma, tipo, io avevo un pezzetto di scamorza, l'ho grattugiata sottile e l'ho mischiata al parmigiano. Insomma, l'importante è che siano 250 grammi e che non siano a pezzi, insomma, deve essere grattugiata oppure puoi anche frullarlo se hai il frullatore. E qui con una mano un po' difficile mi gira tutto, comunque vedi che rimane, si impasta, rimane un po' bagnato, un po' liquido, però non è che sia molto liquido, insomma. E' più facile fare così, cominciare dall'uovo e metterci dentro il parmigiano piuttosto che il contrario. Non si scappa via con una mano sola. Allora, qui c'è la farina, non si vede molto bene. Comunque la farina è, insomma, l'ho un po' mescolata con... E adesso ci aggiungo l'uovo col formaggio. E comincio a mescolare, prima col cucchiaio, col mestolo, e poi dopo un pochettino con le mani. Vedi, sembra molto asciutto, in effetti, no? Sembra... Però poi quando lo mescoli si scalda e si impasta bene, insomma, quando cominci. Appena hai unito un pochettino l'uovo, il formaggio e la farina, lo versi sul tavolo, su una spianatoia. Vedi, non è mescolato benissimo, insomma, perché poi dopo lo impasti con le mani. Ecco, lo impasti cercando di prendere tutta la farina, mischiando proprio, facendo, vedi, un massaggio anche con i pollici, vedi, proprio lo... All'inizio è tutto un po' appiccicoso, però piano piano. Se dovesse essere troppo appiccicoso, troppo bagnato, che ti si appiccica tutto, insomma, che non riesci a impastarlo, mettilo un attimo da parte e poi riprendilo dopo qualche minuto. Vedi, così all'inizio sembra che sia tutto separato, però è sabbioso come, però poi piano piano si impasta bene. Se dovesse essere troppo sabbioso, magari ungiti un po' le mani e impastalo in modo da metterci un pochettino più di olio. Però l'importante è impastarlo bene, cioè non ti devi fermare quando è così, vedi, un pochettino... Ancora è molto secco, non ti devi fermare. Più è avanti e più si ammorbidisce. E piano piano, vedi, si stacca anche dalle dalle mani. E diventa piano piano un po' elastico. Puoi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo cuoci e diventa bello elastico. Quando pensi che vada bene comincia a fare le palline. Io faccio così, se vuoi tu puoi anche fare prima dei rotolini e poi tagliarli. Comunque, insomma, più o meno tutte della stessa grandezza, se ci riesci o non ci riesco. A quel punto, vedi, è talmente morbida la pasta che, anche se prendi un pezzettino di troppo o troppo poco, così si riattacca subito. E' proprio come un pongo molto morbido. E così fai tutte le palline. Nel frattempo accendi il forno a, credo che sia a 360 gradi Fahrenheit. E così fai tutte le palline. E lo tieni nel forno più o meno un quarto d'ora. Dipende da com'è il forno. Il forno magari devi, non so se è ventilato, non so se l'aria circola oppure, insomma, dipende da com'è il forno. Cos'amai devi girarli un pochettino, se si cuociano sotto, di più sotto che sopra, eccetera. E' meglio il forno un po' più basso che troppo alto, se no diventano troppo cotti fuori. Quando sono pronti, li tiri fuori e li metti su una griglia. Come vedi rimangono croccanti fuori e molto elastici dentro. E' buonissimi. E' buon appetito.